Ce l'abbiamo fatta. Beh, io ce l'ho fatta. Che cosa abbiamo fatto? Hai fatto? Non sono lesioni tumorali queste sul fegato. Sono lesioni da peliosi epatica, che in combinazione col battito cardiaco irregolare di solito indicano... Endocardite, infezione alle valvole cardiache. I due maggiori sintomi di abuso di steroidi annebolizzanti. No, non lo faremo. È la rabdomiolisi, è il terzo. Il nostro paziente si gonfia. Chi? Il veleno antico ha accelerato i danni del veleno moderno. Cominciate la cura e liberate il re dalla torre. Come ti senti? Mi vergogno. E fai bene. Sacrifichi i tuoi ideali per vincere un combattimento, ma non per prenderti la donna che ami. Quello era un gioco. Non la vita vera. Io non ho... Ferito nessuno? Prova a dirlo a Shannon. O mi è sfuggito qualcosa mentre piangeva vicino al tuo letto. Non devi vincere il cuore di nessuno. Ma devi semplicemente chiederlo. Miles è un bravo ragazzo. È ricco, sveglio, la tratta bene. Farà una bella vita con lui. Ma io... Io farei il possibile per lei, ma anche il mio massimo non sarebbe abbastanza e lei merita il meglio. La cosa più importante è la sua felicità, non la mia. Aos aveva ragione anche su questo. Su cosa? Che sei davvero un idiota. Che sei davvero un idiota. Sono ancheahanze. È un ruoto. È un ruoto. È un ruoto. È un ruoto. Ocluio. E certi. Di alla. Grazie a tutti.